enduro brescia buongiorno a tutti siamo sopra vobarno come potete vedere paulone edmondson si è impaperato in un piccolo canale di franga una una sorgente penso che la motivazione maggiore sia il fatto che oggi anziché cercare l'appoggio sta cercando il punto g della sua ragazza non si sa cosa cosa abbia per la testa KTM 250 vai Paolo lo zio pole pole alcuna matato lo vedete lì tranquillo lui che dice guarda mi bevo un caffè e vado quando vuoi la squarna in vendita guardatela è bellissima poi la va sulla qui tranquilli che facciamo adesso vogliamo intervista intervista motivazioni spieghi non c'è più non c'è più niente da fare vai zio ieri l'ha già fatta lo zio questo è venuto su senza appoggiare il piede lanciato non è semplice grande qua non bisogna mollare prima vai paulone io ti propongo di scendere tornante sotto e fare di nuovo tutto a cannone come dice meda senza pensare al punto g questa volta oppure cazzo pure ti aspettiamo qua noi guarda lì lì ti cacciamo lì dai dai ma se no se te la porto su dopo la colpa è del pilota dobbiamo avere tutte le componenti come si e sai eh questa è bastarda vedi qui qui così se ti infili qua dentro sei fottuto è lì poi il gas gas lo vedi che è sopra eh gas gas è una moto da pensionati però è là gas gas dici che è una moto da pensionati è da pensionati ma è là però un squarnaboy eccolo che arriva si sente da lontano si è appeso via l'albero incredibile decapitato non portiamo a partire come tutti da hai caldo che arriva nel fango grande escalation commento caldo cazzo l'ho presa larga per uscire dal fango mi sono trovato una pianta ma la sono presa qua vediamo vediamo come un babbo come un babbo ecco lì ma lei non è un segno della guerra si ma può andare senza problemi siamo freschi siamo freschi ma pausa c'è scritto qua no 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 sta registrando sta registrando vabbè oi paggio 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 paio 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 guru dell'enduro dove sei mi ritrovo nella fontanella mi sono attaccati alla canna la canna ecco il mitico Marco mezzo agli alberi io non lo vedo però si sente ecco vediamo ecco vediamo il test finale buona buona riposazione molto 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 tutto sper arrives prima luned الذي è un score 팬� ma ます 해주 an us